Il nostro trattamento è passato in verità la legge di Offenberg in Stolag, che è reglamentata nella posizione di votare diverse politiche. E la legge è stata una legge che è stata molto attraffa, ma soprattutto che il ministro di Finanza ha pagato, ha pagato diversi politici, nel momento che è stato in cambio di votare ora con il governo a Bajcaz. E ora è passato in cui la pagata non è stata in cambio, quindi la legge è stata un bel bel bel, quindi è ora per il Hacier. Sin embargo, il bel 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 è per il nostro parlementario, quindi non si tratta di un'altra cosa, non si tratta di un esempio per altri, e poi non si tratta di un'altra cosa di Hacier. La legge è in controllo di durabilità del posto. che è stata un po' di queste domande. E se facevano un po' di politica, non si tratta di un po' di Azubac, è stato un po' di essere più padeghen, e poi non c'è un po' di essere qui e non c'è un po' di un panorama, e la legge è in controllo della legge, invece non ci sono un po' di un posto, quindi subito e non c'è un po' di un po' di un po' di regno. E diventi un po' di una legge di una legge di un po' di un po' di un po' di questo. La donna è ora differente da sua amiguita, la donna non è ora, e la donna non è ora, è di un vero e di un vero e di un vero e di un vero e di un vero. Quindi, il governo durante la temporada non è stata sincera, in questo caso, ora il governo è che non è stata mai stata la scuola. Quindi, c'è un vero e di un vero. E di un vero che non è stata così, mentre nella scuola della famiglia, della donna non è stata un vero edo. Quindi, la donna non è stata lì, c'è un vero e di un vero che non è stata ricordata tutti i loro del Parlamento che sono corruppati, che si costa di conto di lei, quindi ora è un mese di faia, quindi è venuto al Parlamento, la Sra. Chiomara Luiz Maduro è venuto con il presidente di Aruba, che ha entregato la nostra autonomia, e è molto bello che il CAF indica che ci stiamo pagando molto nel riposo di luce politica. Per esempio, nel pubblico rapporto, il percorso di un'immagine di percorso di percorso di percorso di percorso di 2022, è stato un'immagine di percorso di 2022, è un'immagine di percorso di 33 milioni di percorso di percorso di 2021, ma è un aumento di posto di percorso di l'Ambra, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.